Eccoli i draghi, adesso non fanno più paura, anzi per la verità non facevano paura neanche sabato e domenica perché abbiamo visto che i bambini, a parte il primo momento magari di emozione, a vederli muoversi e dopo si sono divertiti. Obiettivo raggiunto dunque con il Lago dei Draghi, probabilmente saranno contenti anche sia San Giulio, che finalmente i draghi li ha rivisti sul lago e anche Gianni Rodari che era un grande favoliere. Penso che la città si è prestata perfettamente a questo tipo di evento perché comunque è un evento legato alla fantasia, siamo nella città di Rodari e quindi credo che sia il modo migliore per interpretare lo spirito di Rodari che tra l'altro abbiamo anche citato lungo la Nigoglia, nella passeggiata al contrario, citando proprio un brano del Barone Lamberto, c'era due volte il Barone Lamberto. Quindi un evento riuscito alla prima edizione, è piaciuto molto l'ambiente, il contesto, anche il giro in motoscafo ovviamente, poi i ragazzi della ludoteca che hanno animato l'Accademia di Dragologia e anche perché no la parte di ristorazione con Ablo che all'oratorio ha dato una mano sotto l'aspetto invece appunto del banchetto dei draghi. Un successo che ha portato a Domenia quante persone, più o meno, a parte che è un calcolo forse impossibile anche farlo. Sì, un calcolo esatto impossibile, però sicuramente più di 3.500 persone sono stati in questo weekend a Domenia. Per molti è stata la prima volta che hanno scoperto non solamente Domenia ma il Lago d'Orta e questo secondo me è importante, deve farci riflettere perché il ruolo degli eventi oggi è proprio quello di diventare un veicolo di promozione turistica e forse per una volta, senza nulla togliere a Orta, però è successo un po' il contrario. Cioè di solito uno viene a Orta e poi conosce Domenia, in questo caso molti probabilmente sono venuti a Domenia e poi si sono chiesti perché è Lago d'Orta, si chiama così e avranno quindi conosciuto Orta. Adesso bisogna pensare però alla prossima edizione perché abbiamo visto che i draghi sono tornati nelle loro caverne e quando è che andremo a risvegliarli un'altra volta? Ma credo che vista l'accoglienza che hanno avuto quest'anno i draghi torneranno volentieri perché i bambini li hanno accolti benissimo, poi abbiamo usato questa avvertenza di farli osservare da lontano col binocolo per non disturbarli troppo e quindi credo che torneranno volentieri il prossimo anno insieme naturalmente con l'amministrazione comunale, con il forum che ci ha ospitato per questo evento vedremo di mettere in pista una nuova edizione magari con qualche data in più e con qualche novità.